Di Frosinone, Centro Spirituale Frattocchie, attraverso Andrea, guida. Come per l'evento delle torri, torri gemelle, anche ora abbiamo chi vorrebbe parlare. Ne ha un disperato bisogno. Ascoltatelo, fatelo per lui. Entità, scusate, ma devo prendere dimestichezza con questo nuovo mondo, con questa nuova realtà. Il trauma è ancora fresco e siamo innocenti agli occhi di voi tutti, ma non pregate mai per chi arrega questo tipo di danno. Anche loro si trovano nella nostra stessa situazione, anche loro sono qui. Non è facile per nessuno di noi. Come faccio a stare qui, mi chiedi. Una cosa posso dire. Anch'io mi interessavo di queste cose e questo mi aiuta moltissimo. Domanda, in un certo senso eri preparato alla morte? Entità, nessuno mai lo è. Forse dentro di me, a livello inconscio, io lo ero. Ma certo non mi aspettavo di andarmene a 31 anni. Lascio una moglie e due figli piccoli. Li bacio da ieri. Loro mi vedono, ma non riescono a toccarmi. Frenate le emozioni. È naturale per voi. Siate forti. Spero di esserlo anch'io, ma chi può dirlo? Forti sono coloro che hanno reso possibile tutto questo, e cioè la mia morte, pur sapendo che l'umanità intera li avrebbe odiati. Loro sono i veri forti. Domanda, sai anche questo? Entità, sì. Mi hanno spiegato le cose che avevo in dubbio e mi hanno detto che i veri mezzi sono proprio loro. Un partecipante esprime la sua sorpresa per il brevissimo tempo intercorso fra il suo trapasso e la manifestazione dell'entità, che ha detto di essere morto nella strage di Nassiria. Entità, diciamo che è una rarità. Anche la vostra guida lo sta confermando, ma posso assicurarti che io sono veramente uno di quei soldati? Domanda, credo che tu sia uno spirito elevato, perché solo così? Entità, questa domanda è particolare. Non saprei risponderti con chiarezza. Diciamo che non sono un'ombra. Domanda, riesci anche a confortare i tuoi compagni? Entità, certo. Sono io la spalla su cui piangere, perché comunque divido con loro praticamente tutto, nella vita e nella morte. Siamo stati insieme per parecchio tempo, in vita. Lo saremo anche nella morte. Domanda, questa che chiami morte, imparerai poi a vederla come una nuova vita? Entità, forse, ma io ho lasciato tutto. Qui ottengo di più, ma mi accontenterei di non avere nulla, qualsiasi cosa, anche se so che è giusto, che doveva andare così, ma non è così facile accettarlo. Domanda, domanda, di doveri? Entità, di Frosinone. Domanda, possiamo fare qualcosa per te? Entità, pregate per i miei compagni, loro ne hanno più bisogno. Alcuni non accettano ancora questa nuova realtà. Si illudono che sia tutto un sogno e che domani, svegliandosi, potranno fare una telefonata alla loro famiglia e dire che sono sani e salvi e che se la sono vista brutta. C'è mancato poco, cara. Invece sono qui. Domanda, ci saranno altri attentati? Entità, troppi. Troppi, ma necessari, anche se voi non potete capire. Adesso faccio fatica anch'io a capire, ma so che è così. Il disegno è sempre più chiaro, ma è ben lungi dall'essere completo. Ce ne vorrà di tempo per completarlo e per poterlo comprendere tutto. Una cosa. Sapere queste cose aiuta, ma non salva. Sto soffrendo forse anche più degli altri perché so cose che loro sapranno fra molto, molto tempo. Io invece ho la fortuna, sfortuna, di saperle già. Sono molte le entità che vorrebbero intervenire questa sera, quindi non voglio rattristarvi oltre. I presenti ringraziano. Entità, grazie a voi che mi avete ascoltato. Mi è servito molto per scaricare una parte del peso che mi opprime. Non sapete quanto vi sono grato. Voi tutti siete uno spettacolo magnifico visto da qui. Io sono in mezzo a voi dall'inizio della serata. Domanda Sei dietro ad Andrea? Entità Fra te e Andrea Sì, mi hai visto come un'ombra, perché ancora non riesco ad abbassare le vibrazioni per potermi far vedere da voi. Col tempo forse ci riuscirò. Domanda Puoi dirci come ti chiami? Entità Non è importante Preferisco che mi ricordiate come il portavoce delle vittime di Nassiria. Così automaticamente ricorderete anche gli altri. Un grazie da parte di tutte le vittime che, bene o male, hanno capito. Commento Per alcune guide, l'ombra è un guscio astrale che nel piano astrale equivale a ciò che nel piano fisico è il cadavere, con la differenza che il guscio astrale, durante il contatto medianico, può ripetere frasi che sono state tipiche dell'entità che ha abbandonato quel guscio astrale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.